Salve a tutti, sono Agna Scimmione, ho 22 anni e vengo dal Nord. Questa è la mia pagina Facebook, ma sono anche su MySpace, al profilo myspace.com.it E allora cosa aspettate? Venite, contattatemi e commentate il mio MySpace, io verrò nei vostri, vi commenterò, leggerò tutto quello che scrivete e mi farò i cazzi vostri. E voi fatevi i cazzi miei, commentate, 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 votate, 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 soprattutto commentate e votate. E allora cosa aspettate? Contattatemi e votatemi e commentatemi. Ciao a tutti, la vostra Agna Scimmione, alla prossima!